Buongiorno amici ed amiche, benvenuti a tutti sul canale. La riflessione di oggi sul caso Liliana Lavosei titolare il regalo di Natale e anche il regalo dell'Epifania. Purtroppo bisogna mantenersi sul paradosso, sul surreale, perché io mi guardo in giro, tutti ne parlano, in assenza della voce ufficiale delle indagini, tutti ne parlano e leggevo anche dei quotidiani molto importanti come il resto del Carlino, ad esempio. Il resto del Carlino che un po' di tempo fa, a giugno, una pagina intera era titolata a questo fatto e ho letto l'analizzazione che si fa. Vedete? Allora, il fenomeno psicologico che sottende a questa analizzazione è quello che una cosa, se ripetuta nel tempo, diventa realtà. E vi dirò di più, ogni volta la si ripete e la si arricchisce di qualche particolare. Per cui, chi racconta a sua volta questa vicenda racconta la stessa cosa arricchita di un particolare. Mi viene in mente la scena di un film napoletano di cui adesso mi sfugge il nome, in cui vi è proprio questa scena in cui praticamente un signore racconta una storia al capannello di persone che si formano, poi finisce, si forma un altro capannello di persone e lui continua e dice la stessa cosa, magari arricchita di qualche particolare inedito. E' quello che sta succedendo in questa vicenda, dove il isreale diventa isreale e l'isreale diventa reale. Quindi è inutile che adesso ci mettiamo a smentire ogni volta. Ormai sappiamo tutti che Serpin è l'amico intimo di Liliana, era intimo poi di che cosa, di questa intimità, ci sfugge. E' un altro fatto pacifico, ma non vero, che Liliana era alla vigilia, leggo, era alla vigilia di lasciare il marito per andare a vivere con lui. Altro fatto non vero per chi non provato. Un fatto che potrebbe essere probabile, possibile, ma non vero. Quindi è un'annasazione basata sul nulla. Come pure, permettetemi di dire che anche la ricostruzione dell'accaduto in generale è basata sulla ripetizione dei concetti astratti che si dice, si dicono sempre le stesse cose, come è uscita, ha avuto un passaggio, è stata presa in macchina, c'è stata una lite. Mentre facevano la lite, lei ha avuto un malore. Allora è caduta a terra, allora è stata poi postata via in macchina, posta a bagagli. Ma dove è stata postata? No, quel mese faceva abbastanza caldo. Forse è stata postata sul carso, in montagna, è stata sistemata da qualche parte lì, poi, magari in una valigia, poi è stata presa il 30 di dicembre, a Capodanno è stata portata lì, nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico, ed è stata ritrovata, fatta ritrovata, alla vigilia dell'Epifania, come regalo dell'Epifania. Questa è l'annasazione. Un'annasazione che sembra un film già visto, un film già scritto, ma semplicemente non è così. sono delle semplici supposizioni. Allora, non è possibile che una cosa diventi vera, semplicemente perché la ripetono tutte. Quindi, il paradosso qual è? È che tutto si basa, ormai, sulla concezione che questa Liliana era una donna un po' fuori di testa. Una donna che costeggiava, all'improvviso, per 40 anni non l'aveva fatto, costeggiava questo Claudio Serpin, che evidentemente aveva un fascino della vecchiaia, della maturità, diciamo meglio. E lei, lui era stato il sogno della sua vita. Un sogno che lei non aveva mai potuto realizzare. E poi, da quel 25 di ottobre, le si è aperto un mondo. La possibilità di coronare questo sogno della sua vita. E non fa niente quei 32 anni passati con Sebastiano, va bene, ma che vuoi mai che sia che uno va all'estero, in moto, in macchina, viaggi, vacanze, pranzi, cene, divertimenti, ma che vuoi che sia di fronte alla bellezza di un amore maturo? Capita, non c'è una spiegazione. E allora, ecco che, dopo 32 anni di unione, poi di matrimonio con Sebastiano, c'è anche, diciamo, il particolare che bisogna fare un ultimo grande regalo a questo Sebastiano. e quindi, lei, nel paradosso, bisogna, bisogna, bisogna pensare che lei avesse confezionato questo grande regalo di Natale, cioè, un weekend ad un mago insieme al presunto amante. Ora, poi, non finiva qua, perché poi, lei con l'analizzazione, che poi, al ritorno, proprio, sotto Natale, lei sarebbe andata a casa con il fratello Sergio, avrebbe preso tutte le sue cose e si sarebbe trasferita a Villa Sterpin, una località paradisiaca dove lei avrebbe finalmente, finalmente, meglio tardi che mai, coronato questo sogno della, della sua vita. E avrebbe avuto il tempo, perché, 19, dicembre, 20, avrebbe anche avuto il tempo di fare il, non so se si usa lì, ma al sud si usa il presepe, ma sicuramente l'albero di Natale, tutti gli addobbi natalizi, avrebbe avuto il tempo di fare questo. E magari, ecco, alla, questo Sebastiano, insomma, avrebbe, avrebbe fatto anche una letterina di auguri, forse è questa che, è questa la letterina forse che andavano a cercare, Salvo e Gabriella, che dicevano, vediamo, svuotiamo, tocchiamo tutto, tocchiamo tutti gli oggetti della casa, svuotiamo gli armadi, vediamo se c'è una letterina, forse era la letterina, diciamo, di Natale, che aveva nascosto, di Liana. Essi dicevano che invece cercavano una lettera di addio, come suicidio, e mettevano le mani dappertutto, come se una persona che lasci una lettera di suicidio, la va a nascondere, perché dice, eh, voi, non è fare, voi volete che, che io subito metta una, una lettera all'ingresso sul tavolo, e no, la dovete cercare per vedere i motivi del mio, del mio suicidio. Vedete, bisogna ragionare per paradosso, purtroppo, quindi bisogna pensare che Liana si fosse ammattita al punto da confezionare proprio sotto Natale questa bella sorpresa, perché forse non poteva aspettare di più, la passione era tanta, era troppo che lei non, non poteva più vivere senza quest'uomo, evidentemente, bisogna pensare, e allora cosa succede? Secondo la, nella, nella nazazione prevalente, che, quel cattivone del, del marito Sebastiano, evidentemente, si è accorto, gli è stato detto, allora, non accetta, ecco, questo, questo regalo, e se la prende a male, quindi, affronta la, la moglie, le fa del male, in qualche modo, e quindi poi le muore, lui la, la mette in una valigia, la va a nascondere in qualche posto bello freddo, sul calzo, magari, poi, il 30 di, dicembre, poi esce, il figlio, la corda, e con la compaglia, bene, fa in modo, di andare a portare, Liliana, nei giardini, dell'ex, OP, la porta lì, perché poi, alla fine, lui vuole che, si ritrovi, il corpo della moglie, perché altrimenti, poi, non finisce mai, questa storia, e la porta lì, ma, miracolo dei miracoli, mistero dei misteri, non è lui, che poi, la fa ritrovare, non è lui, che dà, indicazioni, no, perché, come c'era stato, il regalo di Natale, preparato e confessionato, da Liliana, in unione, con Claudio Serpino, questa volta, pur non sapendo nulla, in una sorta di premonizione, unitamente con Salvo, fanno l'idea, di andare, alla vigilia dell'epifania, in polizia, a dire, guardate, ma, da quel 14 gennaio, per chi, per quale motivo, cari amici della polizia, da quel 14 di dicembre, scusate, dicembre, perché non siete andati, a cercare bene, a cercare, nei giardini, dell'ex, ospedale psichiatrico, andate, andate, può darsi, che c'è una sorpresa, per l'epifania, c'era, sono andati, ed era lì, quindi, il paradosso, qual è, è che, Sebastiano, secondo alcuni, va a mettere il corpo lì, ed essi, Claudio, sul suggerimento, anche di Salvo, la fanno trovare, capita, tutto può capitare, nella vita, e quindi, e quindi, faranno contento, poi, anche a Fulvio Covaleto, perché, Covaleto, l'aveva detto, già, in tempi non sospetti, aveva detto, troviamola, troviamola a questa donna, diamo a lei, una, degna sepoltura, non può stare lì, buttata, come, immondizie, in, un prato, in un bosco, non può stare lì, buttata, caro conosciuto, che mi hai lasciato lì, in quella posizione, e lì stava, e quindi, vedete, hanno fatto contento, anche questa, sensibilità, di Fulvio Covaleto, che aveva, intuito, che, qualcosa, del genere, fosse, accaduto, quindi, e quindi, ecco che, questo regalo, dell'epifanie, viene, svelato, e viene trovato, il corpo, vedete, è un qualcosa, di logico, che noi, stiamo raccontando, o, è a furia, di ripetere, le stesse cose, che ci andiamo, convincendo, di, di una nasazione, assurda, che, in cui le persone, vengono tirate dentro, per i capelli, come è possibile, mai, che una persona, eventualmente, porti il corpo, nel, nei giardini, dell'ex, e un'altra persona, dica, andate lì, a vedere, andate lì, a vedere, e lo, e lo decidono, di dirlo, il 4 di gennaio, incredibile, e poi, indimenticabile, e anche, quella notizia, in diretta, tv, no, quando, l'inviata, disse a Serpin, hanno trovato, un corpo, in dei sacchi, e lui dice, eh, in un sacco nero, non va bene, ho avuto ragione, sì, sì, è lei, ho avuto ragione, quindi, si vantava di avere avuto ragione, senza, un briciolo, di emozione, di pianto, di disperazione, di commozione, nulla, 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 quindi, io credo, che alla fine, se vogliamo uscire fuori, da questo paradosso, di chi fa il regalo di Natale, e di chi fa il regalo dell'Epifania, se vogliamo uscire fuori, da questa natazione folle, allora dobbiamo dire, alla stampa prevalente, specie a quella a livello nazionale, di non, di portare i fatti, secondo, ciò che si va ripetendo, senza alcuna prova, è solo un sentito dire, ho una versione di una sola parte, noi dovremmo, ognuno fa ipotesi, ma, premettendo, che sono tali, che sono ipotesi, o sono versioni di parte, non è possibile dire, come se niente fosse, Liliana, è uscita, per andare alla guinte, non si è più trovata, Liliana, non è uscita, per andare alla guinte, finché non viene provato questo, noi dovremmo dire, Claudio Serpin dice, che Liliana ha riferito questo, non è affatto provato, nulla, è provato, anche le ricerche, al pc, per quello che si sa, un paio di ricerche, fatte in estate, divorzio, senza avvocato, oppure, ricerche di una casa, bisogna contestualizzare, l'aperizia informatica, servirà a questo, perché, vedete, nei pc di ognuno di noi, se, se vedete, nel mio pc, puttasse io, mesi fa, ho fatto una ricerca, sugli alcolisti, eccetera, vieni fuori questo, si dice che io sono, alcolizzato, perché mi sono, interessato, degli alcolisti, bisogna, contestualizzare, questa è una parola, che io dico sempre, ma, credo che, vedete, ci sia contenti, della superficie, dei fatti, vedete, è preoccupante, questa deriva, e mi sa, di esperimento sociale, a cui io mi sono, sottratto, cioè, quello lì, di, confezionare, dei luoghi comuni, di ripeterli, affinché essi, siano realtà, dovremmo avere, pazienza, e rispetto, per le istituzioni, per, per chi fa le indagini, per chi ci mette la faccia, le responsabilità, per il procuratore, per tutti coloro, che ci lavorano, noi, ognuno di noi, possiamo fare ipotesi, io le faccio per prima, ma, dobbiamo premettere, che si tratti di ipotesi, basate, ecco, su, opinioni personali, su, congetture, non possiamo, fare, una tradizione, ad esempio, sul resto del carlino, una cronestoria, come se fosse, quella, la verità, perché l'ha detto, qualcuno, no, su questo, io non ci sto, quindi, siamo sempre, in attesa, io, vi ringrazio, vi auguro, una buona serata, un abbraccio, come sempre, a tutti quanti voi, vi voglio un mondo del bene, ciao a tutti.